comunque volevo il cappuccio c'è uno del tossico c'è anche di pusce non so che no, è lo sembra pusce davvero stiamo con la salta addosso ma non è che fa come nello che l'indietro ci vengono che cos'altro i testimoni adesso fa la carla così vi ricatta a tutti vi ricatto adesso vi ricatta a tutti vi ricatto a giù peccano e dice ancora